La Corte d'Appello di Torino ha confermato in secondo grado la condanna all'INEL di corrispondere una rendita vitalizia da malattia professionale a Roberto Romeo, 57 anni, che era dipendente di una grande azienda e che per 15 anni ha usato in modo molto intenso un telefono cellulare, più di tre ore al giorno. La notizia è stata data così. Ascoltate bene, c'è un nesso tra uso del cellulare e alcuni tipi di tumore. La Sancito e la Corte d'Appello di Torino. Cambia al massimo qualche parola, ma se guardate i titoli dei giornali sono più o meno gli stessi. Un noto quotidiano addirittura attacca il pezzo così. Scrive, la Corte d'Appello di Torino conferma c'è un nesso tra l'uso scorretto del cellulare e l'insorgenza di alcune tipologie di tumore. Lo annunciano gli avvocati Renato Ambrosio e Stefano Bertone dello studio legale torinesi Ambrosio e Comodo. Avete letto bene? Due avvocati ci avvisano, tirando per la giacchetta un giudice, che i cellulari provocano tumore. Due avvocati, con un giudice come garante. Nella sentenza in realtà la storia è raccontata in modo un po' diverso. C'è scritto, esiste una legge scientifica di copertura che supporta l'affermazione del nesso causale secondo i criteri probabilistici più probabile che non in sostanza. Qualora un giudice non sia in grado di accertare in modo certo e pieno che il danno derivi dal cellulare, verifica se in mancanza dell'uso così intenso del cellulare i risultati, in questo caso per la vittima, presunta vittima, sarebbero stati migliori. Il giudice ha deciso di sì. In tutto questo però c'è anche il rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità, che dice che invece l'uso del cellulare non risulta assolutamente associato all'incidenza di neoplasie nelle aree più esposte durante le chiamate vocali. Cioè, in sostanza. I medici ci rassicurano sul fatto che l'utilizzo del cellulare non provoca i tumori. L'unico dubbio, secondo quel rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità, è sull'utilizzo del cellulare fin dalla tenera età e ovviamente non c'è stato ancora il tempo fisico per poter verificare una cosa del genere. Intanto, una sentenza di un giudice, strattonata diciamo un po' male da una stampa sempre in cerca della notizia golosa, così a leggere i giornali oggi dice il contrario. Ora, al di là di come andrà a finire, la domanda vera è, ma non trovate che tutto questo sia terribilmente poco rassicurante, dico per noi. Buon mercoledì.